Raga, ma quanti scar? Basta! Ma non ne trovo uno quando gioco un game normale, voglio, è il quarto in questo game Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore E inserite il codice creatore fortu, così come vedete a schermo, e poi accettate Da ora, ogni acquisto che farete, mi farà avere una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in una nuova challenge su Fortnite Oggi ragazzi, questa challenge ci farà sudare, perché in pratica possiamo utilizzare solo la prima arma per tipologia che troviamo in un game E non possiamo più cambiarla Questo significa ragazzi, che per l'assalto potremo utilizzare solo il primo che troviamo Stesso discorso per il fucile a pompa e stesso per la metraglietta Insomma, c'è il rischio che a inizio game troveremo tutta roba comune e dovremo concludere così il game Ma a noi piace il rischio ragazzi, quindi mi raccomando, lasciate un like se questa idea vi piace E soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, altrimenti vi prenderete tutti i prossimi video e challenge questo tipo che arriveranno Io vi lascio al game Allora ragazzi, vediamo un attimo che ci esce come prima arma Dobbiamo poi tenercela, se è un assalto, se è un fucile a pompa Ok, perfetto, non è il migliore assalto che potesse uscirmi, però me lo farò andare bene Questo tizio, non l'ho neanche colpito mezza volta Io so che finirò tutta questa partita, tutta questa partita senza letteralmente avere un'arma decente Provo un attimo anche se è un tizio in testa Eh, questa già me lo posso raccogliere Posso volendo agliare di arpione però Oh, cavolo Bella Perfetto, fucile a pompa che ci aveva Ok, mi la mitraglietta, mi devo tenere questa ragazzi Eh, a breve io finisco già il set Perché posso prendere solo la prima tipologia di armi Sia di assalto, sia di fucile a pompa che di mitraglietta Praticamente mi serve solo il pompa, raga, e poi abbiamo fatto Cavolo, no, no, no Eeeh, vado Questo traiardone Ci vuole credere nessuno a questa cosa o uno di vita Allora, insomma ragazzi, questo sarà il nostro set iniziale fino alla fine del game Quindi cerchiamo di farcelo andare bene Anche se fa un po' schifo Cercheremo comunque di farci un paio di partite in questa modalità Non voglio farne solo una anche vincendola Facciamoci un paio Certo che se trovassimo uno scarro o uno spazzo a inizio game In una prossima partita sarebbe il top però Bella brother, ma ti spiace se... No, mi dispiace No, 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 no Fammi uscire Un altro in testa, ce l'ho? Scende? Teoricamente l'arpione me lo dovrei levare comunque Però magari me lo tengo per dopo Dai Sto coso è ingestibile veramente Ma... GG Però non dire altro Parato? Oh Oh Dove? Eric, da dove sei uscito? Ma sorry, what? Ma non me ne ero manco accorto, dude Ma come è fatto? Oh cavolo Oh Aiuto Questo... Questo è il tizio era particolare Tengo due davanti che stanno fightando con le frecce Se riuscissi a intromettermi però Trovo in mezzo palesemente, raga Questo c'ha pure lo scar Devo essere sicuro che quell'altro tizio non mi stia venendo a prendere Infatti sta lì Ignorami, ignorami, ignorami Sta arrivando Non ho capito che arma abbia Mmm Ma che c'avete al posto delle armi? Mitragliatori atomici Questo c'è il P90 E soffro di cuore Sono tipo fragile Non posso fare queste cose Che fastidio aver trovato tutta sta roba però Scarpi, 90 Cavolo Ci mancherebbe solo lo spasso Ma sicuro da qualche parte c'era E' vero che non mi conviene tanto lutare Perché alla fine le armi queste su e queste mi devo tenere Però Qualche scudo Qualche cura un po' più performante Non è che mi farebbe schifo, eh Tizio tu puoi darmi qualcosa? Una pozza grande, lo so Madre di Dio, troppo bello Sì, se la trovate E basta è fortuna Ma se ve la chiamate skill Palese Devo capire chi voglio fai dare per primo E quello sopra, ragazzi Per come stava costruendo la sua box Credo che sia proprio il primo candidato per prenderle Esatto, intendevo questo No, c'aveva quello mitico C'aveva il fucile a pompa mitico Con quest'arma, raga, a distanza è meglio che non sparo proprio, guarda Veramente è meglio che non spari Sono bloccato per la paura Mi sono fatto prendere dal panico, guys Qua ho sbagliato Sprego di materiali Sprego di munizioni Mi sono fatto proprio prendere dal panico Devo tener conto che le mie armi non sono assolutamente a livello di quelle di nemici Io avevo che impressione che questo cristiano abbia finito i materiali Cavolo quanto ci sono andato vicino a perdere Voglio andare a despire, ragazzi Per un semplice motivo Posso fare in modo che il mio primo fucile a pompa sia il fucile a pompa mitico del boss Ci vuole un misto di fortuna e di pazienza Forse molta fortuna perché è quasi impossibile non trovare un fucile a pompa per quando arriverò io O meglio per tutti i nemici che dovrò eliminare e cose di questo tipo Però proviamo Io sto così Aspetto che qualcuno elimini il boss Io ci vado contro e mi prendo il suo fucile a pompa Fucile a pompa Vabbè Fucile a pompa è assalto, tra l'altro Eh, ragazzi, vorrei raccogliere questo assalto ma l'ho visto dopo Cavolo Quasi peggio di prima, quasi peggio di prima, ragazzi Uh, bravo Ok, è andato C'abbia spasso M4 Ma perché faccio queste sfide proprio da masochista? Eh, ciao Ah, pollo, pollastrello Mi accè un attimo qua Sto a offendere Uh, bravo Molto bravo Veramente molto bravo Un tizio molto forte Me lo sono trovato, uh, praticamente dentro Non me ne sono neanche accorto Basta Please Eh, Dio santissimo Ma quanti siete questo coso? Aiuto, tengami tra i etto, blocca God Slappato Ma nessuno aveva qualche cura per la vita? No, eh Ragazzi Ma quanti scar? Basta Ma non ne trovo uno quando gioco un game normale What you? Non ne trovo uno È il quarto in questo game Si è girato dopo Questo c'aveva tutto oro Io non ci credo Io non ci posso credere Questo c'aveva tutto oro Guardate Oh, sta calmo Cavolo Sono bloccato Sono bloccato in un suo muro Tra l'altro Ok, sono morto Non so dove sia Ok, ok, ok Eh, credo che si vada Prima sulla torre Allora, vado prima su questa torre Qui, ragazzi Vedo chi ci sta Dato che praticamente ho live ground E poi mi ci lancio contro Ah, stanno fai dando Quello di prima Modifica No Ok Ma no Quanto faccio schifo Che vergogna Che vergogna Mamma mia Che vergogna Non lo voglio più fare Non lo voglio più giocare Basta, basta, basta Che cringe Come l'ho giocata male E si è fatto anche eliminare Ma chi era questo Mani di ricotta Allora È andata bene Non so come sia possibile Primi due tentativi Abbiamo avuto anche delle armi Un po' Meh Però è andata Quindi va bene Mi raccomando ragazzi Lasciate un like se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto Altrimenti vi perderete Tutte le prossime sfide Tra l'altro ragazzi Piccolo tip Lo dico alla fine del video Io questa challenge L'ho registrata Mentre ero in live sul sito Viola Dove ogni tanto faccio Delle streaming Registro con voi Quindi in descrizione Se sono live streaming Iniziate a seguire anche lì Così quando andremo in live Voi lo saprete Noi ci becchiamo Alla prossima intanto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti